Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla puntata, abbiamo ospite una band Minimo Vitale e abbiamo ospite uno dei membri, Alberto Neri. A questo punto, prima cosa, la prima domanda più semplice, se devi descrivere chi sono i Minimo Vitale e soprattutto perché Minimo Vitale? Allora, Minimo Vitale era un progetto veramente a termine, era uno sfizio che avevo deciso di levarmi perché per i miei 50 anni ho cercato di organizzare un concerto con una band dove riproponevamo pezzi dei massimo volume, che immagino tu conosca bene perché comunque il cantante e scrittore dei massimo volume, Emilio Clementi, è della zona, è marchigiano, quindi tifosissimo dell'Ascoli, tra le altre cose. Volevo fare soltanto questa unica data, ho chiesto a dei musicisti valdostani con cui non avevo ancora avuto l'opportunità di suonare, di organizzare questa cosa. L'abbiamo fatta, è stato molto bello, abbiamo avuto un ottimo riscontro e abbiamo deciso di proseguire. Minimo Vitale chiaramente le iniziali riprendevano le iniziali di massimo volume e soprattutto era quello che noi ci eravamo posti come nostro Minimo Vitale, quindi il fatto di poter cercare di avere uno spazio nostro che ci desse un minimo di soddisfazione, quindi Minimo Vitale in questo senso. Detto questo, una volta terminato questo tributo, chiamiamolo così, ci siamo resi conto che potevamo provare a produrre del materiale originale, quindi ci siamo messi sotto con passione e purtroppo c'è stato il lockdown che ha un pochettino rallentato l'attività, però non l'ha decisamente fermata, anzi per quello che ci riguarda abbiamo cominciato a scambiarci file grazie alle possibilità offerte dalla rete, abbiamo continuato a lavorare fino a quando abbiamo prodotto un mucchietto di pezzi che abbiamo cominciato a portare in giro. Questo ci ha portato a Rock Targato Italia, siamo stati selezionati per la finale e l'abbiamo vinta, quindi vuol dire che qualcosa di buono c'è sicuramente. E a questo punto parliamo appunto dell'ultimo lavoro, questo disco che contiene sette tracce, da cosa tracce, come nasce questo disco, da cosa avete tratto ispirazione, anche perché il vostro genere è un po' particolare. Sì, è un genere particolare, ci rifacciamo in qualche modo, soprattutto per quello che riguarda l'approccio vocale allo spoken word del massimo volume, però abbiamo messo insieme tutte quelle che sono le nostre influenze e le cose che sapevamo fare meglio per cercare di tirare fuori un sound che fosse minimamente originale. Io credo che ci siamo riusciti perché si tratta di musica rock, il rock è un genere adatto ai cinquantenni ormai, per quello che in qualche modo ci siamo trovati bene con questa cifra stilistica. Soprattutto poi per quello che riguarda le liriche, posso dire che io mi ispiro molto, soprattutto in particolare a storie personali, rivisitate e riviste con gli occhi odierni. Quindi racconto molte storie, molte faccende del passato, rivivendole però ben messo in quello che è il presente. Quindi ci raccontiamo in questo modo e diciamo che la musica da una parte mi ispira determinati testi e dall'altra loro sono colpiti magari dalle mie parole, le seguono e lavorando in garage abbiamo prodotto questi sette pezzi che hanno sicuramente una loro forte identità. Io sono, magari posso apparire presuntuoso, però sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. I primi riscontri sono sicuramente positivi perché abbiamo avuto diverse recensioni in questi 15-20 giorni in cui il disco è stato promosso, soprattutto grazie a Rock Targat Italia e quindi confidiamo in futuro soprattutto di poter suonare in giro. Questa è la cosa che ci interessa maggiormente. Trattate degli argomenti, ad esempio citiamo un titolo, cabine telefoniche dismesse, oppure Blue Pack, poi Pack, spesso volendo dire noi utilizziamo per la Pack, per la posta elettronica. Diciamo che ho giocato un pochettino sul significato di Pack perché non si tratta di una posta elettronica certificata ma di una piccola efficace conversazione. Questo è un pezzo che è nato direttamente online. Ero alla ricerca di parole giuste per un brano strumentale che era terminato ma non riuscivo a trovare l'ispirazione giusta. Grazie a una piccola efficace conversazione online fatta con un caro amico, una persona veramente molto valida, con una grande cultura, ho trovato il modo di poter buttare giù le parole in dieci minuti e quindi il pezzo è rimasto poi così. Blu perché comunque il blu è il colore della speranza, di tutto quello che può essere il cielo, quindi quello che si ricerca nella bellezza delle cose. E Pack proprio perché si trattava di una piccola efficace conversazione. Mi piaceva giocare sul titolo con questa cosa. Per quello che riguarda invece cabine telefoniche dismesse, è un discorso ancora diverso. Era un titolo che mi girava in testa da moltissimo tempo. Un giorno passando per strada avevo visto un cartello attaccato a una cabina che diceva questa cabina verrà dismessa entro il... È chiaro che le cabine telefoniche sono un riferimento al passato, ormai non vengono più utilizzate, abbiamo tutti i cellulari, smartphone... È una cosa che riguarda soprattutto il mio passato. Però sono riuscito a riviverla con gli occhi odierni, tornando in un deposito che era piazzato vicino a casa mia che ho immaginato come fosse pieno di cabine telefoniche. Quindi di tutte le storie che mi hanno attraversato al tempo, ma riviste sempre con uno sguardo odierno. E forse la canzone, il testo, diciamo, che trovo meglio riuscito. Ne sono molto soddisfatto. Beh, citando una battuta classica, una prudezza al giorno toglie il medico il giorno. No, no, forse era sbagliato il titolo, cioè la frase. No, no, allora, la prudezza al giorno serve a cercare di sopravvivere in questo mondo che comunque ti mette sempre di fronte a grosse difficoltà. Io l'ho vista più che altro come un termine quasi calcistico, la prudezza, la famosa prudezza del calciatore. Ecco, anche l'uomo per cercare di vivere al meglio la propria vita in momenti così difficili come sono questi, perché è indubbio che il momento sia difficile, necessita di grande forza e di effettivamente arrivare a fare delle cose che sono quasi delle prudezze. Quindi la prudezza al giorno è forse invece il pezzo più positivo in assoluto del disco. E' stata anche la prima canzone che abbiamo scritto insieme. Perfetto. Ma allora, nella realizzazione delle canzoni nascono prima i testi, nascono prima le musiche, da un riff, da un beat, oppure nascono insieme? Allora no, nascono sempre dalla musica, prima dalla musica, perché comunque io per tirare fuori delle parole adatte a una canzone preferisco avere un sound che mi ispiri qualcosa, quindi si parte sempre dalla musica. Lavoriamo tutti insieme, perché io pur non suonando alcun strumento comunque mi occupo molto delle strutture dei pezzi, quindi quando stiamo lavorando stacchi contro stacchi durate passano molto per quello che è il mio sentore, ma è necessario per me avere la musica, per essere ispirato a scrivere delle parole, sempre. E a questo punto, appunto, tu dici le parole. E' più facile avere frasi complesse, oppure come nell'inglese essere un po' più sintetico, a volte un po' grezzo, ma che siano molto più efficaci rispetto a una frase enorme, lunga, come succede spesso nella treppa? Ma non lo so, guarda, io credo che non ci sia uno schema predefinito per una cosa del genere. Io quando scrivo, tendenzialmente scrivo di getto, poi aggiusto le parole sulla musica, ma non sto a pormi troppi problemi sulla complessità o non la complessità, l'efficacia o non l'efficacia delle parole. Una volta strutturato tutto il testo, chiaramente lo proviamo in garage, vediamo se può funzionare, perché io comunque aspetto sempre un ok anche da parte della band, siamo un gruppo molto democratico. E quindi a volte è anche un po' un problema, perché per rendere delle decisioni in democrazia è sempre un po' difficile. Ma è importante comunque che anche i ragazzi della band capiscano cosa voglia spiegare, cosa voglia raccontare. Quindi ti dico, non mi pongo molto il problema. A volte magari le frasi sono complesse, a volte sono più efficaci. Tendenzialmente, certo, uno prova, se si tratta di ritornello, a trovare delle parole che siano un pochettino efficaci e che colpiscano, questo è indubbio. Ma non sto a pensarci nel momento in cui tiro giù le parole. Successivamente, una volta finito il pezzo, vediamo come risulta. Ci sono momenti ineddoti che ricordi nella realizzazione del disco, che stressanti, divertenti, perché in fondo quando uno produce, poi in realtà i momenti sono diversi. Quindi che ricordi che ti hanno sorpreso oppure ti hanno divertito tanto oppure ti hanno stressato tanto? Allora, diciamo che quando ci siamo ritrovati in studio di registrazione, che quindi siamo andati a fissare effettivamente quelli che erano i nostri pezzi, perché una cosa è suonare in garage, una cosa è comunque andare in studio e registrarli. Ci siamo trovati a discutere moltissimo sui suoni, sulle esecuzioni, sulle durate anche dei riff singoli, di tutte le cose. È stato un momento difficile, perché fino a quel momento avevamo vissuto la nostra esperienza in modo molto leggero. Lo è tuttora, ma l'esperienza dello studio è stata comunque faticosa. Fortunatamente abbiamo trovato una persona che si chiama Raffaele Danello Neda, un fonico che comunque ha lavorato con gente anche importante, che ha capito esattamente di cosa necessitavamo. Quindi ci siamo affidati moltissimo anche a lui e il risultato finale è stato davvero soddisfacente. Quindi anche tutte le discussioni che ci sono state nel momento in cui abbiamo registrato sono state sicuramente produttive e sono servite a farci crescere. E invece la copertina di questo album... La copertina dell'album è una foto di un fotografo professionista che si chiama Stefano Torione ed è il fratello del nostro bassista. Anzi, approfitto anche per salutare gli altri componenti del gruppo che sono Alessandro Longo alla batteria, Giosì Brazzale e Luca Consonni alle chitarre, Davide Torione al basso. Suo fratello è un fotografo professionista molto bravo e quando si è trattato di trovare un'idea per una copertina, lui ci ha proposto alcune foto che secondo lui potevano essere adatte al nostro scopo, a far capire quello che poteva essere un viaggio anche magari del passato, però nel futuro. Quindi questo treno è una foto che riguarda un treno la metropolitana di New York City, ecco. Ci ha colpito tantissimo, prima di tutto per i colori molto caldi e poi ci piaceva questa idea del viaggio, del viaggio che abbiamo intrapreso insieme partendo magari dal passato per arrivare a oggi. quindi l'abbiamo trovata una copertina adatta anche in corrispondenza del nome per scelto del disco che è il nome del gruppo, però scritto tutto attaccato per risultare più efficace e ci piace molto. Devo dire che anche i riscontri sulla copertina sono stati ottimi. Siamo siamo contenti. Tu hai citato Rock Tagrato Italia. Qual è stata la prima emozione in mani in cui vi hanno detto ok, vi accettiamo a quel punto. Poi l'emozione finale e le sensazioni che avete vissuto in tutto il tempo della manifestazione. Qual è stata la sensazione, le emozioni, tutto quello che vi è passato in mente o che avete pensato che vi passasse in mente? Allora, sinceramente nel momento in cui siamo stati scelti ne siamo stati quasi stupiti. Non che non credessimo nel nostro materiale, anzi, ci abbiamo sempre creduto, però ci rendevamo conto che purtroppo non essendo più di primissimo pelo, insomma, non essendo dei giovanissimi, a parte il batterista che ha 33 anni, ma siamo tutti fra i 50 e i 55 anni. Immaginavamo che fosse magari difficile che scegliessero una band a G, ecco. Nel momento in cui ci hanno scelto e hanno detto ah però, che bella soddisfazione perché comunque c'è stata una preselezione. La cosa poi bellissima è stata nel momento in cui siamo andati a suonare per la serata finale perché siamo stati prescelti per la finale. Abbiamo fatto un concerto di un certo valore, secondo me molto con grossa personalità e quindi cominciavamo a pensare che potesse esserci la possibilità di vincerlo questa rassegna che è una rassegna tuttora importante. L'abbiamo vinta nel momento in cui ci è stata comunicata stavamo proprio discutendo con il tecnico di studio che ci ha registrato Neda perché volevamo metterci d'accordo per entrare in studio prima possibile. Quando è arrivata questa notizia abbiamo detto bene, non prima possibile, subito, perché si trattava di inizio agosto e quindi noi a settembre siamo entrati in studio non appena possibile perché comunque ci sono stati tempi tecnici anche per lui perché aveva altri lavori in corso e in un mesetto abbiamo fatto tutto. Abbiamo pensato di mettere il disco online inizialmente anche perché ne parlavamo io e te prima purtroppo la gente ormai difficilmente compra musica non è il mio caso io continuo a comprare musica perché credo che sia giusto e corretto ripagare gli artisti del loro lavoro e mi piace anche proprio avere il supporto fisico in casa poi usufruisco della musica online come tutti ma continuerò a comprare dischi fino a quando avrò un centesimo in tasca e proseguendo il discorso che ti facevo prima il disco online ci sembrava la soluzione migliore poi ci siamo resi conto che c'era anche una discreta richiesta del nostro supporto anche perché ci sono molte persone che comunque non persone del personale del settore ecco quindi delle riviste online di webzine cose del genere che recensiscono i dischi esclusivamente tramite supporto quindi ci siamo messi lì di buzzo buono abbiamo appena mandato via tutto il materiale per febbraio avremo anche il supporto fisico cosa che avevamo deciso fin dall'inizio però avevamo pensato di prendercela un po' con calma visto l'andazzo abbiamo detto no forse è meglio che lo tiriamo fuori prima possibile a questo punto io giocherei un po' sul fatto dell'emozione questa è stata l'emozione nel momento in cui tu sei salito sul palco della finale e oltre che tanti altri concetti che tu sali sul palco prima cosa qualche tuo collega qualche tuo artista anche importante mi ha detto a volte nel momento in cui salgo sul palco penso ma chi me lo fa fare poi quando ti si apre il palco capisci perché lo fai ma qual è la sensazione in cui ti trovi un pubblico davanti che è in blu al buio perché chiaramente c'è le luci a palla sul viso c'è la tensione per il fatto che devi fare bene devi suonare bene però c'è sotto un silenzio iniziale poi quel brusio poi quella quell'energia che loro trasmettono a te e tu ritrasmetti a loro qual è la tua sensazione la tua emozione in quel caso mi aiuta tantissimo il fatto di avere l'ego l'ego di cui abbiamo necessità noi artisti per potersi presentare sul palco quindi io nel momento in cui vado su un palco che ci siano 20 40 persone che ce ne siano 2000 2000 perché è il massimo di persone che ho trovato di fronte a me io sono sempre molto contento molto convinto e voglio fare il mio spettacolo quindi sono lì penso a fare al meglio il mio spettacolo magari il pubblico getta uno sguardo ogni tanto ma sono assolutamente concentrato su quello che stiamo facendo in quel momento e questo è sicuramente il nostro punto di forza siamo bravi dal vivo siamo belli da vedere e invece quando scendi poi dal palco che a quel punto vedi le persone in viso che ti pongono ti pongono domande a volte domande tecniche ma ci sono domande cui in realtà forse chi te la posta davanti in realtà non sapeva esprimere bene quella domanda ma nel loro sorriso nel tuo viso hanno avuto una risposta che in realtà forse neanche loro si immaginavano però le hai resi felici sì guarda soprattutto adesso con il minimo vitale negli ultimi concerti che ripeto secondo me sono stati veramente effettuati con grosse personalità ho colto subito il tipo di sensazione che avevamo provocato nel pubblico mai come adesso mi era successo in passato perché io arrivo comunque da una gavetta lunga sempre con gruppi base quindi mai con contratti discografici o cose del genere e però ho fatto una trentina d'anni di concerti quindi bene o male so cosa vuol dire mai come ora mai come con il minimo vitale mi sono reso conto del tipo di sensazione favorevole che portiamo nel pubblico mi è piaciuto moltissimo anche in occasione di una delle nostre ultime esibizioni finire il concerto ed essere accerchiato da una banda di ragazzi e ragazze giovanissime che hanno espresso un parere favorevole positivo enorme che mi ha dato molta soddisfazione perché comunque è bello pensare che ci sono anche le nuove generazioni che riescano ad accettare che esiste un genere musicale che magari ai loro occhi può sembrare vecchio ma che ha sempre tanta sostanza e quindi ti dico sono sono davvero contento di quello che abbiamo fatto finora dal vivo e spero di poterlo portare soprattutto al di fuori dai confini locali fuori dalla Valle d'Aosta la Valle d'Aosta ha pochissimi posti per poter suonare per confrontarmi anche con un pubblico esterno è successo per dire a Legend quando abbiamo fatto la finale di Rock Targat Italia ed è stato molto bello questo è quanto vogliamo vogliamo portare la nostra musica in giro allora Minimo Vitale è reperibile online lo trovate in disco su tutte le piattaforme online per quello che riguarda noi potete contattarci sulle pagine di Facebook basta cercare Minimo Vitale Instagram e il prossimo concerto sarà con il gruppo che ha vinto Rock Targat Italia prima di noi ci siamo conosciuti durante la serata finale ci siamo piaciuti e abbiamo deciso di fare una data insieme che sono i Circus Punk credo che sarà una bellissima serata e mi auguro ecco insomma di andare in giro anche per il resto dell'Italia sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro perché abbiamo tutti una vita ben definita abbiamo famiglie figli e tutto il resto quindi dobbiamo organizzarci ma siamo ben disposti a fare qualsiasi tipo di sacrificio pur di portare la nostra musica in giro per l'Italia Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro per l'Italia